Sì, bene, grazie, grazie di dirmi. Dicevo che sono particolarmente felice di essere oggi qua perché è un ritorno a casa. Si sente? Sì. Sì, io per circa 30 anni ho scritto per la Trecani, ho scritto le voci sull'arte dei paesi latinoamericani e qualche voce complessiva dell'arte del continente e di alcuni paesi anche sulla loro architettura. Devo dire che da 50 anni che vivo in Italia quello che mi porto nel cuore veramente è la Trecani. Io ho lavorato per le principali istituzioni culturali italiane ma non ho visto mai una istituzione dove non ci fosse che il rispetto verso la cultura. La Trecani è stata sempre quella e vorrei ricordare tre persone che non ci sono più ma che hanno dato la loro vita e il loro apporto all'enciclopedia. Una è l'istorica dell'arte Giovanna Cassadei, persona discreta di una eccezionale capacità di aiutare a correggere, a far perfezionare i testi e senza chiedere assolutamente mai niente a nessuno. Un altro è il pittore Eugenio Dragutescu che ovunque andava cercava di raccogliere materiale per arricchire l'archivio della Trecani. E il terzo che vorrei ricordare con il quale non ho avuto rapporti qui all'interno dell'enciclopedia però che è stato un mio grande amico all'esterno è l'antropologo e uno dei principali africanisti al mondo, Bernardo Bernardi. Bernardo lo metto come esempio di una capacità che ha avuto l'enciclopedia sempre di attrarre e di qua sono passate tutte le grandi menti che Italia e non soltanto Italia ha fornito. Quindi dopo questo tipo di ringraziamento all'enciclopedia per il lavoro che svolge e che ho riconosciuto anche in un articolo che ho scritto tanti anni fa per l'illustrazione italiana nel quale davo atto che era uno dei punti indicatori di valore nella cultura italiana era l'enciclopedia. Bene, adesso passo a presentare il libro di Luciano Dottarelli e presento prima di tutto l'autore e il mio compagno oggi in questo tavolo, il professor Aurelio Rizzacassa. Tanto il professor Dottarelli, Luciano Dottarelli, quanto il professor Rizzacassa sono personaggi molto influenti nella vita culturale, vita erbese, molto conosciuti. E poi Dottarelli ha anche un politico di primo livello, è stato, adesso non fa più politica, non si sa se tornerà a farla o meno, però l'attività sua in questo momento è tutta stessa verso la cultura. Bene, adesso parliamo del libro Mussonio Lettrusco. Io direi che il libro si può dividere in due parti, due parti, a parte l'evidente scorrevolezza della lettura, perché è un libro di divulgazione, ci sono aspetti meno evidenti del libro, più celati, uno dei quali è quello che dirò adesso, cioè una prima parte del libro è dedicata al mondo culturale di Mussonio, il mondo culturale di Mussonio, e la seconda parte è dedicata al pensiero di Mussonio. Ora, prendo la prima parte. Anni fa era venuto a Roma il dramaturgo spagnolo Alfonso Sastre, e aveva fatto un'incontro conferenza all'Eliseo, al Teatro Eliseo, e lì Alfonso Sastre ha voluto parlare del teatro politico e ha preso come semplificativo il dramaturgo tedesco Erwin Piscator. Allora spiegava Sastre che Piscator faceva questa operazione. In tutti i romanzi e le opere teatrali esiste la vita dei protagonisti, le loro vicende, che avvengono in primo piano. Però nello sfondo c'è sempre il mondo storico, il mondo e l'ambiente sociale nel quale loro si muovono. Ora, il teatro politico di Piscator, ma lo è anche il teatro politico di Bertolt Brecht, prendono lo sfondo storico-sociale e lo passano al primo piano, e l'istoria personale e privata dei protagonisti va in un secondo piano, cioè diventa unicamente il pretesto per poter evidenziare ciò che avveniva nella loro epoca. Così ha fatto Dottarelli. La prima parte, come dicevo, dà l'ambiente culturale, specificamente filosofico, nel quale si muove Musonio. Siamo nel primo secolo dopo Cristo, e l'anno è un periodo molto drammatico, dobbiamo capire che nel 68 muore Nerone, nel 69 addirittura a Roma si susseguono quattro imperatori, Galba, Otone, Vitellio e Vespasiano. Questo per far capire la instabilità e le tensioni che correvano nell'epoca. Bene, filosoficamente la dottrina dominante è lo stoicismo che viene importato dalla Grecia. Ora, bisogna dire che quando un modello viene trapiantato in un altro posto, subisce delle variazioni, inevitabilmente. Il successo in America Latina, con la conquista e poi successivamente di più, con il periodo coloniale, quando gli europei e gli spagnoli cercavano di imporre modi di vita e credenze religiose. Hanno dovuto poi venire incontro a quello che erano le tradizioni dei precolombiani. Cioè, cito soltanto due cose, perché poi non è l'argomento, però questo fatto comparativo aiuta molto a capire e a tirare fuori delle sintesi generali. La cappella di indios. La cappella di indios era una possibilità alla facciata della Chiesa di poter fare la messa agli indios che erano fuori all'aperto e potevano seguirla e che naturalmente erano abituati a questo tipo di partecipazione al rito, perché i riti sacrificali si svolgevano nel piccolo sacrario e la fola assisteva all'esterno. Allora, poi la seconda esempio è la cappella di Possas. Le cappelle di Possas erano il recinto che chiudeva la Chiesa e il monastero, che proteggeva la Chiesa e il monastero, negli angoli venivano collocate delle cappelle che servivano per indottrinare gli indigeni e per sostare le processioni. Anche questo si rifaceva, condicendeva a riti precedenti, per non dire dell'arte del periodo coloniale latinoamericano, in cui gli indigeni inseriscono elementi autottono perché è il modo di riconoscersi e perché doveva essere accettato, altrimenti si creavano delle difficoltà di penetrazione della dottrina cattolica. E con questo dico che allora esistono delle possibilità negli avvenimenti storici di venire a fondersi con altri contesti nei quali le tradizioni dei luoghi devono assorbire i modelli che vengono imposti o che vengono importati. A volte sono conflitti molto drammatici però sempre, in ogni modo, esiste una sintesi tra il modello importato e la tradizione del luogo. Musonio, passo al pensiero di Musonio. Il pensiero di Musonio potrebbe, non potrebbe, è per noi un pensiero reazionario in certi aspetti e un pensiero progressista in altri. Il pensiero reazionario, io l'ho ricavato quando lui parla della sessualità, la quale dovrebbe avvenire unicamente per lui all'interno del matrimonio e non dovrebbe essere il piacere finalizzato al piacere dell'incontro sessuale quanto il sesso finalizzato alla procreazione. Per noi, naturalmente, è qualcosa di solito. Io sono andato in questi giorni a trovare un testo che avevo scritto nel 1983 per un convegno internazionale. Mi era stato chiesto che si era svolto a Tokyo ed era proprio sulla sessualità. E allora vedo che non possono coincidere le mie idee e le idee laiche contemporanee della sessualità con quello che Musonio dice come etica sessuale. Cioè per noi, io personalmente, credo che la sessualità sia un incontro di partecipazione nel quale l'espressione delle persone partecipanti all'atto viene comunicata all'altro. Quindi c'è un dialogo e questo dialogo è un dialogo d'amore un dialogo d'amore che avviene anche negli incontri occasionali o dovrebbe avvenire negli incontri anche occasionali, anche momentanei. Se non c'è questo, la sessualità è una sessualità che è violenza in un certo senso. Però non è che andiamo a rifugiarci unicamente nel matrimonio e unicamente nei fini procreativi. Detto questo, però, la sessualità che Musonio propone crea condizioni favorevole perché poi il cristianessimo venga accolto con meno difficoltà in quanto coincide l'etica sessuale di Musonio con l'etica sessuale del cristianessimo. Ma Musonio propone altre cose che secondo me sono cose molto... che si prestano a riflettere. Per esempio, lui parla della filosofia è uno dei punti che lui dà come possibilità al filosofo per filosofare o per riuscire a trovare l'ambiente suo interiore al filosofare e la vita rurale e lo pone anche come la pastorizia come la cosa più indicata. Ora, che succede? Che io sono rimasto molto perplesso perché naturalmente per me che non ho nessun interesse verso la campagna e così come per tanti altri di noi e questo era una cosa insolita. Però poi riflettendo e ricordando determinati atteggiamenti di persone importanti nell'ambito della creazione e della cultura in generale allora, ricordando anche me stesso nei miei processi creativi e i processi ideativi sono perfettamente diversi per ogni individuo. Io non ho mai conosciuto Jean Cocteau però so di una volta che lui doveva per chi non lo sa ma penso che quasi tutti sanno chi era Jean Cocteau un poeta, regista, disegnatore francese e lui aveva una sua amica le aveva prestato una biletta per lavorare nella sceneggiatura di un suo film e lui è andato lì con il ragazzo che doveva essere il protagonista del film e passavano le settimane e Jean Cocteau era a letto allora il ragazzo domanda gli ha preoccupato ma scusami non siamo venuti qui per lavorare e Cocteau ha risposto è quello che sto facendo cioè per lui questa era la condizione ottimale per poter maturare le sue idee invece vedevo al quale sì ho conosciuto e con il quale ho avuto amicizia vedevo Federico Fellini che lui invece amava circondarsi di gente molto bizzarra e questo circo evidentemente lo aiutava a creare e adesso che parlo della creazione vorrei tornare su lo stoicismo che come dicevo prima era la filosofia dominante nell'epoca di Musonio lo stoicismo viene importato dalla Grecia e la parola stoicismo nasce di Stoà che è un edificio a pianta rettangolare con uno dei lati porticato la Stoà e da lì parte l'era il punto di predicazione dei filosofi dell'epoca e da lì parte il termine stoicismo lo stoicismo quando arriva a Roma naturalmente che soffre delle modifiche come già abbiamo detto che soffre qualunque modello venga importato e lo stoicismo a Roma viene molto diffuso soprattutto dal cenacolo degli scipioni che lo diffonde lo diffonde ampiamente e a Roma si trova questa dottrina con un ambiente perfettamente diverso all'ambiente greco in Grecia e per i greci l'idea era il punto di raggiungimento e quindi si arrivava a questo per il romano era l'azione e quindi c'era una differenza sostanziale e per l'azione esisteva e doveva esistere la volontà che io ho definito come la capacità di disporre le parti del corpo e della mente sincronizzate in funzione dell'obiettivo bene questa volontà romana trasforma la purezza dello stoicismo è una volontà che io ancora oggi ritrovo nel popolo italiano una volontà che a volte a volte ed è spesso direi mal indirizzata è mal indirizzata perché è volta ad ottenere a tutti i costi passando sopra il bene comune e calpestando anche il talento e questo sarebbe qualcosa da correggere secondo me bene in Musonio torniamo su trovo un pensiero che mi trova molto coerente ed è il pensiero della disobbedienza cioè Musonio indica a un ragazzo che se le viene impedito dal padre di praticare di studiare la filosofia lui dovrebbe disobbedire perché secondo lui colloca un'entità superiore al padre che sarebbe Zeus il Dio il Dio perdone Zeus ordina la realizzazione del pensiero del pensiero filosofico del pensiero lui lo traduce in una vita in un modo di vivere io trovo che anche lì nel fatto che lui dà una possibilità di divisione tra quello che è un ente superiore in questo caso per noi non lo è che sarebbe il Dio al quale attribuisce un diritto morale e l'uomo al quale attribuisce il diritto etico e io personalmente vorrei ritornare adesso sto quasi per finire però vorrei ritornare alla fine su quello che può essere una deformazione etica molto evidente nella società contemporanea Musonio dà un'altra indicazione per me molto importante crea ciò che l'uomo è autorizzato a fare che dipende da sé ed è la rappresentazione e in questo io sono talmente entusiasta della sua perché io trovo che noi conosciamo il mondo realmente attraverso la rappresentazione cioè quando vediamo direttamente le cose non le vediamo come sono quando le vediamo rappresentate le vediamo in una vera essenza la vera essenza del mondo la rappresentazione per me è la persona che ha la capacità di rappresentare ancora di più alla possibilità di penetrare a fondo nel mondo mi pongo un problema è un problema quale sarebbe oggi il compito del pensiero della filosofia del pensiero in generale la filosofia che pensa soltanto sulla filosofia stessa non è che secondo me non è che può prescindere neanche della conoscenza culturale però non può prescindere neanche del reale cioè io trovo che così per tutte il pensiero è anche una rappresentazione una rappresentazione che quando si dà nel concetto raccoglie l'essenza che non può essere che vissuta in modo molto pregnante e vorrei leggere malamente perché io non sono un attore qui c'è un attore che lo avrebbe fatto molto meglio di me sicuramente e io volevo concludere con il concetto di storia perché viviamo in un mondo di artificio nel quale anche la storia viene manipolata e ciò che cronaca viene passato come evento storico il che non è in più si vuole vedere la storia come progresso il che neanche è ponendo come esempio il progresso tecnico scientifico senza considerare quello che è l'altra storia che è l'istoria dell'attività intellettuale dell'attività culturale unicamente dal confronto di queste due storie dal confronto dell'una con l'altra vedremo se queste due storie hanno raggiunto in realtà un alto livello di coscienza e non sono semplicemente una copertura di etiche parziali che servono per giustificare una o un'altra disciplina una o un'altra categoria io penso che adesso io ho finito adesso la parola va al professor Aurelio Rizzacassa e dopo chiuderà il professor Dottarelli grazie a tutti dunque innanzitutto anche io ringrazio chi ha organizzato questa iniziativa di avermi dato la possibilità di tornare dopo molti anni in questa sala dell'enciclopedia italiana alla quale ho partecipato in tanti convegni filosofici è stato un punto di riferimento quegli anni per la cultura filosofica e per lo spiritualismo cristiano nella città di Roma e indubbiamente nella cultura italiana vado subito al problema del libro che oggi stiamo presentando chi mi ha preceduto ha già detto molte cose che avrei voluto dire ma cercherò di di mettermi su un'altra strada e sono stati esplicitati due aspetti uno quello delle notizie che nel libro sono presenti e l'altro quello di un possibile confronto della nostra diciamo cultura contemporanea nel nostro modo di vedere le cose con quello di Musonio io vorrei fare un altro discorso intanto non riassumo il libro perché il libro va letto e la presentazione del libro serve solo a creare la curiosità di leggerlo voglio invece vedere come Luciano Dottarelli si accosta a questo autore direi in una molteplicità di metodi ed è questo che rende interessante questo libro Luciano mi è capitato di presentare parecchie cose di Luciano Dottarelli lo ringrazio della stima che ha sempre nei miei confronti io sono un filosofo morale della storia e quando presento libri cerco ovviamente di presentarli da un punto di vista filosofico ora Luciano Dottarelli ha una grande dote quando scrive affronta argomenti complessi rendendoli accessibili a chi legge non è sempre così lui riesce a farlo e ci riesce anche in questo autore che non è vicino alle conoscenze che abbiamo tutti della cultura antica Gaglio Musonio Rufo è un autore che è nella leggenda e entra nella leggenda perché dico questo in genere noi quando non abbiamo dati storici sicuri pensiamo che questa sia una lacuna nel caso di Musonio non è così perché i dati essenziali ce li abbiamo tutti gli altri sono sfumati nella leggenda non è certa la nascita non è certa la morte però è certa la presenza nel mondo romano la sua presenza nel mondo romano e questa presenza è documentata in un periodo molto tormentato della storia di Roma sia da un punto di vista civile che da un punto di vista culturale che da un punto di vista religioso sono gli anni che dal 60 dopo Cristo vanno al 95 e questa presenza è documentata con degli eventi che riguardano l'imperatore anche lui che è nella storia e nella leggenda che è nel giudizio e direi anche nel pregiudizio di noi che leggiamo la storia Nerone diceva prima il collega ricordava la morte di Nerone nel 69 bene Nerone per quello che riguarda Musonio ha avuto un grande significato perché Musonio era tra gli oppositori di Nerone e però come oppositore di Nerone non ha accorso il pericolo o perlomeno può accorso il pericolo ma non c'è stata la realtà della condanna del suicidio per lui è bastato l'esilio e dopo l'esilio è tornato in patria dopo il suo ritorno in patria scompare Nerone e quindi anche se viene diciamo qualificato come Socrate romano e anche qui non ha il destino di Socrate può continuare a dare il suo messaggio e a tramandare ai posteri il suo messaggio ma anche qui il suo messaggio è nella leggenda perché vedete Socrate non ha scritto nulla non l'ha voluto fare e noi vediamo la ricostruzione del profilo di Socrate dai suoi seguaci dai suoi ammiratori qualche cosa anche dai suoi critici nel caso invece di Musonio e Musonio aveva scritto si ricordano dei titoli memorabili dei diatribe ma questi scritti hanno contribuito alla leggenda si perdono nella nebbia dei tempi abbiamo solo dei frammenti e abbiamo dei frammenti riportati da altri quindi anche qui quando noi ricostruiamo storicamente Musonio non c'è il pericolo della cronaca di cui parlava il collega c'è solo un'opera di storia però un'opera di storia che è perdita con croce è pensiero ma pensiero di chi? di Musonio o nostro? questo non lo sappiamo ma il non saperlo ci permette di accogliere Musonio e di meditare su Musonio quindi vedete è ancora un caso in cui la leggenda è pregevole e non è lo sbiadire della storia nell'oblio ecco questo mi pare importante e nelle pagine di Luciano Dottarelli questo traspare nei tentativi di descrivere e Luciano Dottarelli è sempre documentato quando quando descrive quindi quando descrive noi abbiamo dei dati che lui ha interpretato che ha raccolto che ha valutato e che ha dei quali rispetto ai quali ha tenuto conto della attendibilità bene allora a questo punto vedete che ecco abbiamo come dato storico una leggenda ma abbiamo una leggenda che va oltre la storia e deve andarci perché altrimenti rivisitare Musonio potrebbe significare solo un compito l'attuazione di un compito di erudizione peraltro un'erudizione se vogliamo legittima per un autore di Pulzini Etrusco e Luciano Dottarelli e di Polzena quindi a un certo punto si potrebbe anche capire questa indulgenza all'erudizione del luogo io sono a Viterbo ma non non ho mai esaltato il luogo intanto perché non sono viterbesa e poi perché capisco che oggi c'è questa rivisitazione del locale in un mondo globalizzato ma io in questo sono ancora antico la cultura filosofica la coltivo nella sua universalità quindi non mi dedico alla rivalutazione locale però Luciano Dottarelli che poi si è occupato di tanti autori della cultura filosofica ufficiale Kant Popper Freud e così via e riesce anche con Musonio a entrare nella cultura ufficiale della filosofia antica e allora questo Musonio che è nella leggenda Socrate Romano maestro di Epitteto legato con i cristiani e qui io direi che non è non è che ha incoraggiato il cristianesimo lui ha un interesse per la religiosità ma soprattutto c'è un'affinità di idee un'affinità etica di qualche di una certa parte di valori che in fondo erano presenti nella religiosità ellenistica e che in qualche modo erano anche nel cristianesimo dopo noi oggi li ritroviamo quando rivisitiamo Musonio e certo lo rivisitiamo con i nostri giudizi e con i nostri pregiudizi con le nostre condivisioni e con le nostre riserve con le nostre affinità e con le nostre diversità e questo è inevitabile ma è importante che ci sia perché altrimenti ecco come ripeto sarebbe solo un descrivere in modo erudito il passato senza viverlo invece quando si fa filosofia ci si rivolge al mondo della storia bisogna rivisitare gli autori e esplicitare quello che ci possono dire e quello che non ci possono dire quello per cui l'oggi si accosta a loro e quello per cui l'oggi si contrappone a loro e questo con Musonio accade allora dicevo dicevo Socrate Romano dicevo in qualche modo maestro di Epiteto e dire questo significa entrare già nell'ellenismo ma in un ellenismo dove i messaggi indubbiamente diversi e indubbiamente qualche volta anche contrapposti degli epicurei e degli stoici e degli scettici del ellenismo greco si trasformano in Roma si trasformano in un ellenismo che è già evoluto rispetto al primo ellenismo io parlerei senz'altro di un secondo ellenismo nel quale queste filosofie in qualche modo danno vita ad un eclettismo ad una fusione di interessi culturali che convivono e intanto con il trionfo del cristianesimo ma convivono anche con specie in Roma con la contemporaneità e la confluenza in un insieme di religiosità in qualche modo anche eclettica di varie forme di religiosità ispirate anche dall'Oriente e tutte queste cose che cosa portano? portano ai filosofi a non interessarsi direttamente come già era accaduto nella filosofia classica e come accadeva ancora sia pure in modo più attenuato nell'ellenismo greco cioè viene si porta ad una filosofia nella quale si depotenzia l'interesse ecco Heidegger direbbe oggi delle grandi immagini del mondo si depotenzia l'atteggiamento ontologico metafisico verso che cosa? è verso dei compiti più pratici che non sono i compiti pratici della 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 filosofia diciamo solo della sofistica che erano compiti di formazione politica qui siamo nella tebiosas nel nel vivi nascostamente dell'ellenismo siamo in una filosofia che qualche volta è contrapposta ad uno stato come l'impero che in fondo era già in crisi come valori di civici allora a questo punto la filosofia percorre un altro orizzonte l'orizzonte dell'etica l'orizzonte dell'etica che qualche volta la la presenta come medicina dell'anima qualche altra volta come ricerca della felicità qualche altra volta come approfondimento preparazione alla pratica delle virtù voi capite che questo è un compito ben diverso della filosofia e questo è il compito che in gran parte si assume a Musonio e quando se lo assume se lo assume in dialogo in affinità e diversità con il cristianismo con le altre filosofie con le altre forme di religiosità ma se lo assume con una portata educativa e allora in quella portata educativa ecco che rientrano quegli elementi di valore che fanno di Musonio l'etrusco un un pensatore integro da un punto di vista morale capace di superare il lassismo dei costumi proprio dell'epoca della crisi dei valori civici dell'impero romano che in fondo si stava affermando ma stava contemporaneamente a preparare i suoi germi di decadenza che dopo qualche secolo lo porteranno al disfacimento bene in questa situazione ecco che allora Musonio si fa interprete testimone educatore rispetto ad una serie di valori con i quali noi che andiamo a rivisitarlo andiamo a confrontarci e questi valori quali sono ecco quello del matrimonio quello della parità della parità dell'uomo e della donna quello di una rivalutazione della donna in un femminismo che possiamo definire femminismo incompleto femminismo non rivoluzionario ma comunque significativo ed avanguardia nell'epoca in cui lo stava proponendo rivalutazione della sessualità comprensione che hanno un valore per la responsabilità educativa anche le pratiche contraccettive condanna dell'esposizione e quindi dell'uccisione dell'infanzia cioè condanna dell'infanticidio rivalutazione dell'agricoltura rivalutazione della sobrietà e del controllo del cibo non si vive per mangiare ma si mangia per vivere pensate questo che significava nel periodo in cui sui triclini delle case nobili si viveva facendo bagordi siamo un periodo vicino alle idee di Petronio alla scena di Marchionis e qui siamo qui c'è una grande distanza e allora ecco quella elemento che porta Musonio anche alla vicinanza di quelle che noi oggi chiameremo pratiche vegetariane ecco non voglio diffondermi di più voglio invece dire due parole per concludere sulla rivisitazione tutto questo che importanza viene ad avere per noi perché possiamo dobbiamo vogliamo siamo incuriositi a leggere Musonio noi filosofi del secolo in cui la filosofia prima è stata la filosofia della crisi e poi è diventata la crisi della filosofia non perché la filosofia sia la morte della filosofia come la morte della storia di cui parla Fukuyama perché la filosofia oggi sta ricostruendosi ma come non nell'angolatura dell'essere forse nell'angolatura del nulla io dico nei miei scritti oggi si filosofa nel frammento si filosofa nella finitezza bene cosa ci dice qui Musonio quando noi tentiamo di dialogare con i frammenti delle sue pagine ci dice alcune cose che per noi sono molto importanti intanto che l'elemento centrale della consapevolezza filosofica è un elemento etico intanto che vanno ripensate le questioni della virtù intanto che occorre porre ordine nel nostro stile di vita intanto che è bene pensare all'interno della quotidianità ma tutto questo non è quello che oggi fa la filosofia quando esce dall'accademia entra nelle pratiche filosofiche quando talvolta è filosofia con e per i bambini quando molto spesso la filosofia è filosofia nel le caffè filo nel senso francese il caffè filosofico la discussione tra non filosofi nella quotidianità quando la filosofia dottorelli adesso ha scritto un altro libro su Freud dal titolo Il filosofo dietro il divano ecco quando la filosofia diventa non medicina non terapia per l'anima medicina come porre ordine nell'anima per essere più sereni più felici bene quando la filosofia entra nello studio dei consulenti filosofici cioè nelle cosiddette pratiche filosofiche dove la filosofia non è più una costruzione dei grandi castelli di interpretazione del reale ma è un ragionare e pensare per migliorare l'uomo e per aiutare l'uomo nella fatica di vivere mi fermo più grazie anche io voglio ringraziare l'istituto della enciclopedia italiana treccani per l'ospitalità di oggi e ringraziare Samuel Montealegre e Aurelio Rizzacasa per la loro presentazione che ha fornito degli spunti che cercherò di approfondire di riprendere senza mettermi chiaramente a riassumere il libro intanto il senso di questo lavoro è emerso molto bene in primo luogo c'è un impegno in qualche modo con Musonio Ruffo Musonio Ruffo è un filosofo Musonio Letrusco originario di Volsini Volsini è la mia città con la quale ho anche un sentimento di appartenenza e di riconoscenza quindi era in qualche modo un atto dovuto ma questo non sarebbe stato sufficiente a motivare questo lavoro su Musonio Letrusco il sottotitolo un po' chiarisce invece l'altra motivazione la filosofia come scienza di vita che cosa vuol dire io mi sto interessando in questo periodo soprattutto di quella dimensione della filosofia che non è soltanto visione le grandi visioni metafisiche Aurelio Rizzacasa lo ricordava non è soltanto critica del sapere anche la filosofia è anche questa dimensione c'è poi tutta una tradizione della filosofia che è quella più forte nell'antichità della filosofia come cura dell'anima della filosofia come esercizio spirituale ecco noi siamo abituati a sentire questa espressione soprattutto dopo gli studi di Pierre Hadot Pierre Hadot è un grande storico della filosofia antica che ha messo in luce questa dimensione fondamentale della filosofia antica l'idea che la filosofia non è quella disciplina astratta quell'insieme di competenze e di saperi che si insegna nelle università a persone che poi a loro volta lo andranno ad insegnare ad altri la filosofia nell'antichità non era questo ma era un esercizio spirituale di crescita e di cura di sé una medicina per l'anima questa metafora della medicina dell'anima è fin dall'inizio della storia della filosofia forse la possiamo trovare per la prima volta in Democrito ma il Musonio Rufo si esprime con una forza davvero convincente Musonio Rufo è maestro di Epiteto lo abbiamo sentito ricordare il manuale di Epiteto che anche il nostro Giacomo Leopardi ha tradotto quel magnifico libricciolo diceva Giacomo Leopardi che cosa ci insegnavano questi filosofi ci insegnavano l'ascesis l'ascesi l'esercizio spirituale la crescita la cura di sé la medicina per l'anima Epiteto diceva la scuola di un filosofo è una clinica e lo diceva con riferimento al suo maestro che era Musonio dice Musonio era talmente capace di parlare direttamente con le persone interpretava la filosofia come dialogo vivente tanto che a ognuno degli uditori sembrava che conoscesse perfettamente i nostri problemi la nostra psicologia le cose che ci tormentavano in quel momento tanto le sue parole riuscivano ad essere dirette all'interlocutore ecco Musonio aveva interpretato la filosofia così ed è per questo che nell'antichità era considerato un modello di vita perfetta scrive un grande della prima cristianità come origine o Giuliano l'apostata scrive di Musonio come anche lui uno di quelli che hanno filosofato con maggiore coerenza nell'antichità quindi una figura che nell'antichità ha avuto un grande prestigio poi completamente obbligato andando incontro a un oblio che ha trovato anche l'oblio nelle storie della filosofia dello stoicismo delle grandi scuoli dell'età ellenistiche oggi invece quel pensiero dell'ellenismo e anche dell'ellenismo romano è fortemente rivalutato in questi ultimi decenni hanno scritto di Musonio Rufo non soltanto Pierre Radot come ricordavo ma per esempio Michel Foucault dedica a Musonio Rufo moltissime pagine in quella parte della sua riflessione dell'ultimo Michel Foucault che si occupa della filosofia come cura di sé oppure una filosofa americana come Martha Nussbaum prima Aurelio Rizzacasa ricordava un'espressione femminismo incompleto femminismo incompleto è il titolo di un saggio di Martha Nussbaum che si intitola proprio così il femminismo incompleto di Musonio Rufo quindi un'attenzione molto forte a questa figura come un'attenzione molto forte a tutti quei filosofi dell'antichità che hanno interpretato la filosofia come cura dell'anima come cura di sé Musonio in questo è davvero un punto di riferimento perché abbiamo detto alcuni saggi che lo denominano il Socrate romano è un bel complimento una bella valutazione perché non soltanto perché come Socrate non scrive niente e lo fa molto probabilmente in maniera deliberata perché lui è convinto come lo era Socrate che la parola scritta è come le immagini dipinte che se le interroghi non ti rispondono mentre invece la filosofia è dialogo addirittura scrive Platone il pensare stesso è dialogo che l'anima fa con sé stessa interrogandosi e rispondendosi quindi Socrate romano perché Musonio interpreta la filosofia come dialogo vivente poi un autore svizzero nei primi del novecento intitola un saggio su Musonio un femminista romano oppure il grande storico della romanità Gérôme Carcopinot chiama Musonio un campione del femminismo antico ora capiamo di più in che senso Martha Nussbaum oggi in questi anni può parlare di un femminismo incompleto di Musonio Ruffo ma averlo riconosciuto come un pensatore che per primo mette all'attenzione i temi del genere i temi della parità nell'educazione tra l'uomo e la donna significa riconoscere una grande forza innovativa del pensiero di Musonio da dove poteva derivare questa novità nel mondo romano di quel tempo non possiamo non ricordare le origini etrusche di Musonio le origini etrusche di Musonio Musonio vive quando ormai la civiltà etrusca in qualche modo è stata sottomessa dai romani ma non tanto la civiltà la forza organizzativa degli etruschi in realtà la civiltà etrusca continua ancora a vivere a Volsini in tutta la Tuscia la presentanza dell'Etruria è ancora viva la Dea Norzia questa Dea che si venera a Volsini e nel cui tempio ogni anno si piantava un chiodo per indicare l'inesorabile trascorrere del tempo ecco quella Dea Norzia etrusca non è altro che l'idea stoica di un destino di una fatalità che si può in qualche modo prorogare ma a cui non si può sfuggire e quindi si capisce anche perché la filosofia stoica sia la filosofia più in sintonia con il mondo culturale dell'Etruria e anche dell'Etruria romanizzata perché nella tradizione etrusca c'è questa idea di un destino inesorabile che si può attraverso la divinazione in qualche modo prorogare e l'arte della divinazione è fondamentale per gli etruschi e lo rimarrà nel mondo romano ancora per molto tempo è la stessa idea degli stoici di un ordine necessario che governa il mondo al quale il saggio deve essere capace di sapersi in qualche modo adeguare quindi dicevamo Musonio femminista romano la sua idea della possibilità di educare alla filosofia non soltanto gli uomini come si riteneva per tutto il pensiero greco e anche per tutto il pensiero romano ma anche le donne anche le donne possono filosofare è una delle diatribe di Musonio e poi l'idea appunto di una filosofia che è soprattutto dialogo vivente e che è anche opposizione al potere lo si ricordava prima opposizione al potere che cosa vuol dire Musonio sarà esiliato insieme ai filosofi stoici nelle persecuzioni che metteranno insieme cristiani e filosofi stoici e anche maestri della divinazione perché perché secondo Musonio l'uomo deve seguire in primo luogo il logos universale che si manifesta nella prima forma nella propria persona nella propria coscienza quando si dice che l'obbedienza non è necessariamente una virtù sono parole che Musonio pronuncia in quegli anni con una grande forza di rottura rispetto alla tradizione ma anche guardate con una grande forza di rottura rispetto allo stesso cristianesimo perché il cristianesimo che in quegli anni si va diffondendo sta cercando di trovare di non apparire eccessivamente sovversivo io ho messo a confronto una la prima lettera di Pietro in cui si dice che il cristiano schiavo deve essere obbediente nei confronti del suo padrone anche quando il padrone comandi delle azioni che non ritiene dal punto di vista etico accettabile perché l'idea è quella di penetrare con la predicazione del cristianesimo di attecchire di non apparire con una forza eccessivamente sovversiva Musonio dice no all'ordine di un padrone che comandasse qualcosa che non è in sintonia con la nostra coscienza noi abbiamo il diritto di non obbedire anche uno schiavo può non obbedire perché in questo caso obbedisce ad un'autorità superiore che è Zeus ma se noi consideriamo che cosa è Zeus per gli stoici non è una divinità personale è piuttosto l'ordine necessario che governa il mondo significa obbedire in primo luogo a quella scintilla di questo logos che si trova nella coscienza di ognuno di noi ecco perché un filosofo come Musonio sarà esiliato più volte sarà esiliato da Nerone in una isola Jaros in una isola deserta nel mondo greco che consente a Musonio quell'atteggiamento che è proprio di ogni utopia quello di allontanarsi e gettare uno sguardo sulla realtà presente da un altro punto di vista ecco l'ellenizzazione di Musonio Rufo si compie quando viene esiliato Musonio nasce da famiglia etrusca nel mondo e nella cultura e nella lingua romana ma fa le sue lezioni parla in greco riconoscersi nella civiltà e nella cultura greca significa riconoscersi negli ideali della tradizione che è soprattutto la tradizione socratica interpretata dal punto di vista poi dei cinici di quella grande libertà che la filosofia cinica di Ogeni in particolare forniva quindi tutta l'antichità trasmette questa leggenda di Musonio come di un filosofo che per coerenza resiste al potere Luciano di Samosata ne parla in un dialogo molto divertente che si intitola Neroneo dello scavo dell'istmo perché sembra che Musonio sia stato anche oltre che esiliato a Jaros messo a lavorare ai lavori forzati nell'istmo allora racconta Luciano divertendosi che un filosofo era andato a trovarlo lo aveva trovato lì che scavava con la vanga con il badile e impietosito gli dice Musonio sono partecipe del tuo dolore ho compassione per te Musonio risponde ma avresti più compassione di me se io fossi Nerone e mi vedresti cantare sapete si prende gioco in maniera umoristica anche di questo vezzo di Nerone di sfidare a cantare i grandi poeti di quel tempo ecco questi passaggi che si ritrovano in filostrofo che si ritrovano in Luciano fanno arrivare la leggenda di Musonio per in rivoli che noi riterremmo strani difficili ma lo ritroviamo per esempio nei canti pisani di Ezra Pound conoscete il grande poeta Ezra Pound vittima anche di una sua passione per il nazismo e per il fascismo ma che vede in Musonio il filosofo che soltanto sulla base della forza della propria coscienza è capace di resistere ai lavori forzati e all'esilio che è stato così duro nei confronti di un despota come Nerone e Ezra Pound nei suoi labirintici canti pisani ha spazio per un filosofo come Musonio si diverte a chiamarlo il Gai Musonio giocando sul prenome Gaglio di Musonio Rufo e dice dovremmo ergergli un monumento a questo filosofo con il Badile filosofo con il Badile il filosofo che sta scavando all'istmo e che ha la forza di reagire alla durezza della sua vita di quel momento prendendosi gioco di Nerone altri spunti non voglio andare molto a lungo li forniva l'intervento di Samuel Montalegre mettendo in evidenza come la morale sessuale di Musonio Rufo sia una morale sessuale che appare molto in sintonia con quella che noi consideriamo la morale sessuale del magistero cattolico viene da pensare immediatamente da identificarla in questo modo cioè una sessualità lecita soltanto all'interno del rapporto matrimoniale una condanna della omosessualità una condanna della contraccezione questo ha fatto parlare anche dei rapporti di Musonio con il cristianesimo Musonio ha conosciuto gli ambienti cristiani io credo proprio di no che non si possa provare e credo anche che non c'è bisogno di una interpretazione di questo tipo perché in realtà queste idee sulla morale sessuale molto prima che si affermassero con il cristianesimo per divenire quella che è la morale tradizionale del magistero cattolico si erano già affermate nell'ambito dell'aristocrazia dell'impero del tardo paganesimo nell'ambito ellenistico già con Musonio Rufo ma prima di lui con altri filosofi dello stoicismo ma anche con la tradizione del giudaismo ellenistico filone e l'ebreo si erano già affermate queste idee che cosa era cambiato nella mentalità romana sapete che la morale sessuale romana dei romani quella del pater familias era Paul Weiner la chiama una virilità da stupro per i romani era consentito anzi era titolo di prestigio qualsiasi forma di sovrappiù sessuale quindi una virilità che si esprimesse anche all'interno del rapporto omosessuale l'importante era che il maschio avesse un ruolo attivo e quindi il rapporto omosessuale non era condannato la concezione che noi abbiamo oggi dell'atteggiamento omofobico è un atteggiamento di contrarietà e di opposizione a qualsiasi rapporto di tipo omosessuale indipendentemente dal ruolo che si svolge all'interno del rapporto omosessuale se passivo o se attivo nel caso dei romani il ruolo attivo all'interno del rapporto omosessuale non era affatto condannato ma era considerato legittimo anzi visto come un sovrappiù di energia sessuale proprio perché l'idea era questa della virilità di stupro che era prevalente nel costume sessuale romano ma qualcosa cominciava a cambiare nel momento in cui si afferma l'impero perché soprattutto a livello dell'aristocrazia gli esponenti dell'aristocrazia sono presi in una rete di relazioni che in qualche modo depotenzia la loro espressione la loro energia sessuale la loro virilità da stupro come si è detto e quindi ci si concentra su un rapporto più ordinato all'interno del rapporto matrimoniale e quindi tutto quello che appare oltre la dimensione familiare in cui si può esplicitare la sessualità appare come un di più un qualcosa che può essere sovvertitore dell'organizzazione sociale quindi non tanto una qualcosa che questa concezione della morale sessuale da imputare al condizionamento che Musonio subisce da parte della morale sessuale cristiana anche perché non è affatto vero che all'inizio nella morale sessuale cristiana ci fosse questa opposizione alla contraccezione oppure questa condanna così forte nei confronti del rapporto omosessuale e della sessualità sono temi molto complessi perché poi hanno a che fare anche con la dimensione attuale con le nostre concezioni attuali però anche su quello ci sarebbe molto da dire come anche è importante sono importanti altri spunti Musonio è un sostenitore molto deciso della dieta vegetariana vi chiederete che cosa ha a che fare un filosofo con la dieta con l'alimentazione addirittura con il taglio dei capelli o con la barba ha molto a che fare perché se la filosofia nell'antichità era questo era una dimensione quotidiana era un modo di vivere era un modo di coltivare la propria umanità questi aspetti sono importanti ecco Musonio difende l'alimentazione vegetariana con ragioni che non sono quelle tradizionali presenti anche all'interno del mondo romano sapete all'interno del mondo romano c'era la scuola dei sesti che sosteneva l'alimentazione vegetariana rifacendosi anche alle dottrine di Pitagora per Pitagora siccome credevano i pitagorici nella reincarnazione il nutrirsi di animali poteva significare in qualche modo nutrirsi anche di un proprio congiunto che si fosse reincarnato in quegli animali quindi le ragioni dei pitagorici sono ragioni legate alla loro credenza nella metempsicosi nella reincarnazione delle anime le ragioni di Musonio in favore della dieta vegetariana sono di altro tipo sono ragioni di carattere motivazioni di carattere ascetico Musonio dice l'alimentazione è molto importante per l'esercizio del pensiero e per la cura di sé la carne appesantisce il pensiero lo rende meno fluido lo rende meno capace di elevarsi guardate gli dei perché poi l'esercizio dell'ascesi dell'ascesis è una imitazione di Dio che cosa fanno gli dei si nutrono delle brezze che salgono dalla terra e dal mare e si nutrono dunque di un cibo leggero come i venti le brezze che si levano dal mare così gli uomini che vogliono imitare gli dei devono nutrirsi di cibi leggeri i cibi leggeri sono i cibi secchi i cibi vegetali attenzione vegetariano non vegano Musonio ritiene che sia legittimo accogliere quello che gli animali senza violenza senza che siano uccisi possono offrirci quindi le uova il miele tutto quello che dagli animali ci può venire quindi ragioni di carattere ascetico motivazioni legate alla possibilità dell'esercizio più agevole e più fluido del pensiero ma anche ragioni di carattere psicologico il nutrirsi di animali che vengono uccisi incentiva un atteggiamento aggressivo violento che dovremmo cercare di evitare l'ultima cosa la dico a proposito di una dimensione che è poi la dimensione della nostra tuscia sapete la tuscia da cui poi deriva Musonio l'etrusco è una terra per buona parte ancora agricola in cui l'agricoltura ha una presenza che è ancora capace non soltanto di dare sostegno alle produzioni del territorio ma anche in qualche modo di plasmare la dimensione della vita ecco Musonio ritiene che tutti possono essere filosofi questa era la caratteristica del pensiero antico a cui forse nell'età moderna si è molto derogato fino a Nice perché poi Nice di nuovo ci insegna che tutti possono essere filosofi ecco per Musonio come per gli antichi tutti possono essere filosofi possono essere filosofi gli schiavi e non era scontato che gli schiavi fossero ammessi nelle scuole di filosofia Epicuro lo faceva ma non tutte le scuole le donne possono essere filosofi abbiamo detto l'importanza di questo pensiero femminista di Musonio possono essere filosofi persino i re e dico persino i re pensando a quello che diceva Platone che i re devono essere filosofi ma per Musonio i re devono essere filosofi in un altro modo nel senso che filosofo è chi è capace di governare se stesso quindi non è importante che noi governiamo uno stato non è importante che governiamo una città è importante soprattutto che governiamo noi stessi quindi la filosofia è l'arte di governare in primo luogo se stessi quindi di trovare la strada per il miglioramento di sé quindi possono essere filosofi dicevamo le donne gli schiavi i re ma la dimensione più adeguata per la vita filosofica è quella dell'agricoltore agricoltore perché l'agricoltura fornisce non soltanto tutta una serie di metafore per spiegare la filosofia come coltivazione di sé la radice di cultura cultura è la stessa la coltivazione di sé la fioritura dell'umanità vedete quante metafore offre l'agricoltura alla coltivazione di sé era stato poi uno filosofo stoico della generazione precedente a Musonio Seneca a dire questo che diventa il titolo di un'opera molto conosciuta di Martha Nussbaum noi viviamo per un breve periodo di tempo quando viviamo impariamo a coltivare l'umanità ecco questa idea del coltivare l'umanità ma per Musonio diventa anche qualcosa di più che non una fantasia tipica dei romani da Virgilio a Columella agli altri l'idea della terra no per Musonio significa la terra come il lavoro più adeguato per chi vuole essere filosofo dicevo che questo è un tratto che mi piace sottolineare perché se c'è un genius loci filosofico della Tuscia uso questa espressione per dire un carattere un genius loci filosofico della Tuscia io lo lo troverei e qui sono convinto anch'io che parlare di genius loci filosofico è quasi una contraddizione in termini la filosofia ci hanno insegnato i grandi filosofi del passato a cominciare da Platone che è il tentativo di porsi su un livello che va oltre la dimensione locale radicata in un luogo ma è il tentativo di elevarsi ad una dimensione che abbraccia tutto il tempo e tutto lo spazio dice Platone con una enfasi e con uno slancio che noi sappiamo forse per certi versi anche eccessivo però se c'è un genius loci filosofico della Tuscia superata questa antinomia che lega la filosofia come dimensione universale al locale ecco forse è proprio qui nell'idea della coltivazione di sé Musonio è il primo che apre questa tradizione ma noi non possiamo dimenticare che quando la filosofia nel Medioevo diventerà ancella della teologia un filosofo come Bonaventura da Bagno Reggio Francescano all'interno di un contesto che è ormai quello cristiano continuerà ad intendere secondo la tradizione socratico-platonica l'idea della filosofia come contemplazione della natura come ritorno a sé e come elevazione oltre di sé quindi ancora una volta come esercizio spirituale è quello che farà anche Egidio da Viterbo sapete quest'anno si sta preparando a Viterbo e nella Tuscia con grande spinta l'anniversario di quella data del 1517 che significa la riforma protestante e quindi il ruolo che l'Ecclesia Viterbiensis ha svolto all'interno del mondo degli agostiniani per cercare di dare una spinta al rinnovamento della Chiesa cattolica nel momento in cui si andava alla rottura con Lutero e con quell'altra tradizione agostiniana bene un filosofo viterbese Egidio da Viterbo interpreta nel rinascimento questa idea ancora una volta della filosofia come fioritura come coltivazione di sé ma per concludere non posso non ricordare non un filosofo ma un principe anarchico quel vicino Orsini che commissionò il Bosco Sacro di Bomarzo che credo tutti voi conoscerete bene nel Bosco Sacro di Bomarzo c'è espresso questa idea della natura coltivata come specchio della coltivazione della nostra anima come psicomachia cioè come lotta con i nostri mostri interiori che nel parco dei mostri nel Bosco Sacro di Bomarzo tutti possiamo vedere e magari leggere anche andando rientrando dalla visita al Bosco Sacro entrando nel palazzo trovare anche nell'iscrizione quell'idea della filosofia che ci dice di vivere con se stessi di conoscere se stessi e in qualche modo di trovare la strada per andare oltre noi stessi grazie io non so se qualcuno vuole domandare qualche cosa naturalmente che lo può fare pregherei ai miei due compagni qui di essere brevissimi nelle risposte in caso che sia una domanda perché noi alle sette dobbiamo lasciare questo è un incontro che dovrebbe permettere anche alle persone che sono in sala di salutare e di poter parlare un po' tra di loro ecco Aldo Forbice che voglio presentare direttamente io che oltre giornalista uomo di cultura che tutti conoscete è anche un conoscitore e frequentatore di Bolsena e del suo genio Sloci ma io volevo vero innanzitutto sono molto curioso non ho letto il libro e mi scuso molto curioso su questo personaggio Musonio sono un altro per questi due aspetti che riguardano Musonio vegetaliano non carnivoro e Musonio in qualche modo come dire femminista sia pure con delle particolarità che abbiamo visto ma io sono particolarmente interessato visto che Luciano Dottarelli ha fatto dei riferimenti a Bolsini Bolsena lo so che è una domanda forse che riguarderebbe più gli etruscologi gli storici e quindi non i filosofi però insomma una curiosità visto che ci troviamo a parlare proprio di Bolsini perché c'è una polemica a Bolsena che riguarda proprio le origini storiche di Bolsena Bolsena di origine etrusca ma c'è tutta adesso in questi ultimi tempi sono usciti anche tanti tanti libri tanti studi ricerche di etruscologi di archeologi di esperti un po' sono anche contestate quindi c'è una polemica un po' sulle origini vere di Bolsena molto sinteticamente c'è una vulgata di un archeologo tedesco dei primi del secolo che diceva che afferma che Bolsena sia stata originata da Orvieto Orvieto è stata bruciata da quei in mascalzone di Romani dopo questo incendio una parte delle etrusche che stavano a Orvieto è scesa a valle vicino al lago di Bolsena e lì è nata Ursini questo dice questo è il truscologo ma questa teoria viene molto contestata da tanti esperti ma soprattutto contestata anche da ricerche e scoperte archeologiche che sono nate in tutti questi ultimi decenni a cominciare dalle tombe a Orvieto sono tombe di militari sono tutte uguali hanno trovato per gli stessi reperti mentre a Bolsena hanno trovato tombe di donne sacerdotesse le parlava prima Luciano era considerato un centro religioso Bolsena dove arriviamo dalle città etrusche e non solo arriviamo dai pellegrinaggi per questa dea mozia dea del sole ed era considerato un santuario religioso ora questo è se questa grande scoperta verrà confermata questo significa anche che bisogna un po' riscrivere tante pagine della storia rusca ed è la stessa storia di Bolsena allora la domanda per non farla troppo lunga è proprio questa se i nostri amici filosofi sanno qualcosa in proposito soprattutto anche Luciano che essendo un uomo di Borsini forse ha studiato meglio l'argomento grazie sì posso rispondere questa se fosse stata una domanda rivoltami tra Bolsena e Dorvieto sarebbe stata una domanda molto provocatoria perché tu sai Aldo che c'è una disputa che è aperta da tanto tempo io nel libro dico semplicemente come risulta che Musonio è originario di Bolsini Bolsini è il nome che assumerà quella che era l'antica città etrusca di Velsna diventerà Bolsini in età romana e quindi un importante municipio romano allora la domanda è questa la Bolsini di quel tempo era l'erede soltanto culturale della Velsna etrusca oppure la città etrusca era proprio lì sulle sponde del lago io devo rispondere in base a quello che la comunità degli etruscologi attualmente sostiene attualmente la comunità degli etruscologi sostiene che l'antica città di Velsna etrusca fosse dove adesso è Orvieto che nel 264 a.C. i romani distrussero Velsna e deportarono una parte dei cittadini di Velsna che erano stati fedeli ai romani perché c'era stata una rivolta le deportarono in un luogo meno protetto sulle sponde del lago di Bolsena dove attualmente è l'area di Volsini la città che noi chiamiamo etrusco-romana perché è vero che è romana ma è stata ricostruita fondata ex novo dai deportati da Orvieto quindi l'archeologia ufficiale etruscologia oggi sostiene questo anche perché recenti campagni di scavo vicino ad Orvieto hanno trovato un santuario molto importante molto grande che sapete che Velsna a Volsini era in qualche modo il luogo dove si ritrovavano i capi della Lega Etrusca per lasciare ancora aperta questo paradigma di Velsna non ad Orvieto ma a Volsena è che ci sono scavi anche recentemente uno scavo è molto recente proprio da qualche settimana hanno trovato delle mura molto importanti nell'area di Volsena davanti al palazzo del Principe del Drago tu sai a che cosa mi riferisco delle mura imponenti come imponenti erano le mura che a suo tempo aveva trovato Raymond Bloch e Jacques Ergon sapete che la scuola francese l'école francese di Roma ha scavato per tanti anni a Volsena sulla base della ipotesi che la collocazione di Velsna del santuario etrusco quindi il luogo dove ci si ritrovava fosse proprio lì a Volsena avevano trovato delle mura imponenti poi questo dobbiamo dirlo per onestà anche Raymond Bloch che aveva scavato lì convinto di quel paradigma abbandonò l'idea che la Velsna etrusca fosse a Volsena e anche lui accettò l'ipotesi prevalente che fosse ad Orvieto quindi attualmente lo stato della questione è questa però chiaramente c'è anche un elemento campanilistico molto forte che mette a confronto queste due scuole di pensiero perché sappiamo che tra Volsena e Orvieto c'è una continuità di rapporti e di contrasti e di conflitti storici che è data da questa vicenda di Velsna Volsini dalla vicenda del Corpus Domini del miracolo del Corpus Domini tutta una serie di elementi che legano queste due città Orvieto sapete è in Umbria Bolsena è nel Lazio però c'è un legame che per chi sostiene il paradigma orvietano è spiegato con la derivazione dei bolsenesi no dei volsinesi dagli etruschi di Velsna però questa è attualmente la situazione resta il fatto che Musonio che vive dopo tre secoli dalla distruzione di Velsna è ancora permeato di cultura etrusca è ancora due secoli dopo un successore un esponente della cultura romana che si richiama alla sua derivazione dalla famiglia dei Rufi riporta Norzia richiama Norzia le acque di Norzia il Tempio la concezione etrusca della divinazione io non so chi ore sono Luciano perché non vorrei veramente no allora finiamo qua perché sono le 18 e 40 e come ho detto in questi casi è necessario anche per la gente che assiste poter incontrare gli amici poter salutare e conoscere magari l'autore del volume grazie grazie a tutti veramente